La pressione sul Mediterraneo centrale in fase di graduale aumento, con residui e condizioni di instabilità pomeridiana. Temperature insensibili a aumento, specie fra venerdì e sabato. In Toscana, giovedì 20 agosto, sereno poco nuvoloso, salvo nubi basse durante la notte e nella prima parte della mattinata sul Valdarno Medio e inferiore. Venti deboli occidentali, mari mossi, temperature minime in calo, massime in ulteriore lieve aumento. Sul territorio provinciale cielo sereno poco nuvoloso, a Lucche sulla Piana temperatura minima 19, massima 32 gradi, a Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 16, massima 33, a Viarege sul litorale minima 18, massima 29 gradi. Tempo stabile e soleggiata anche nei giorni successivi, con temperature in deciso rialzo.